Ci troviamo qui a Villanova d'Asti in questo capannone dove stiamo eseguendo il premontaggio di una pista di atletica indoor. Sarà una pista che verrà fornita alla città di Albuquerque in New Messico negli Stati Uniti. Tutte le piste di atletica smontabili richiedono un premontaggio che viene eseguito dal nostro personale tecnico qualificato. Il primo montaggio è diverso come procedura rispetto a tutti i successivi, quindi abitualmente il nostro primo montaggio viene eseguito in situ direttamente sul luogo dove viene consegnata la pista. In questo caso purtroppo a causa delle restrizioni anche che ci sono state e che ci sono attualmente a seguito del Covid-19 abbiamo deciso, optato per fare questa procedura di premontaggio qui da noi in Italia. Questa pista progettata per la città di Albuquerque in realtà è già la seconda pista che forniamo in quella città. Loro già posseggono una pista di atletica mondo smontabile fornita diversi anni fa, di conseguenza i loro tecnici hanno già molta dimestichezza con il montaggio di una pista di questo tipo. La città di Albuquerque ha una certa importanza a livello nazionale negli Stati Uniti perché a gennaio vengono svolti degli eventi di atletica di grande richiamo in America. Motivo per cui l'unica possibilità per poter fornire in tempo questa pista era di effettuare per l'appunto il premontaggio in Italia e con grande soddisfazione possiamo dire che tutto sta andando avanti assolutamente secondo un programma che è stato concordato con loro in maniera molto meticolosa. tutta la pista e tutti i vari componenti verranno consegnati in tempo a inizio gennaio e consapevoli del fatto che i loro tecnici hanno già molta dimestichezza con il montaggio di questa pista siamo molto fiduciosi che tutto verrà montato per gli eventi di atletica previsti a fine gennaio.